Dopo l'anteprima dell'IFA Sony ha portato a Las Vegas il primo suo Walkman con sistema operativo Android quello che vediamo qua infatti non è uno smartphone ma è un Walkman di nuova generazione per Sony sottilissimo e anche molto leggero, come vediamo ha un display veramente molto grande, 4.3 pollici Android 2.3, processore Tegra 2, tagli da 8, 16 e 32 GB di dati, uscita HDMI e praticamente non più un servizio lettore multimediale ma un vero e proprio sistema completo se vogliamo una risposta all'Apple Touch di Apple, quindi con accesso al market di Android per scaricare le applicazioni la sua connettività è quella che è qua a Las Vegas e in più con il servizio precaricato di Musical Limited per lo streaming di musica illimitata con un database di più di 12 milioni di canzoni di Sony lo stesso servizio è disponibile anche sui TV e sulla Playstation Grazie 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 Grazie.